E' stato il politico più importante del Portogallo. Mario Soares era un simbolo per i politici lusitani di destra e di sinistra. L'ex presidente ha lasciato il segno nella storia politica del Portogallo, della quale è stato protagonista per oltre 40 anni. Esiliato in Francia dopo tre anni di prigione durante la dittatura Salazar, il leader socialista torna nel suo paese dopo la rivoluzione dei Garofani e l'aprile del 1974 diventa una figura chiave della transizione democratica e dell'integrazione europea. Soares partecipa al primo governo provvisorio ed è componente dell'Assemblea Costituente. Riceve l'incarico di primo ministro dopo le prime elezioni democratiche del 1974 e mette la parola fine al colonialismo straccione di Lisbona. Sposato con Maria Barroso e per tre volte primo ministro e ministro degli esteri, nel 1986 viene eletto presidente, nello stesso anno il Portogallo entra nella comunità economica europea. È lo sdoganamento definitivo del paese e Soares ne è ancora una volta all'artifice. Diventa presidente per la seconda volta fino al 1996, poi fino al 2004, deputato di quel Parlamento europeo che per anni Lisbona aveva dovuto guardare dalla finestra. Ma già negli anni 90 il suo prestigio supera i confini del Portogallo e il mondo gli riconosce un posto nella storia. Da Nelson Mandela in Sudafrica al premio europeo Robert Schumann, grazie a lui il Portogallo si ancora saldamente ai principi della democrazia. Nel 2006, a 81 anni, dopo aver lasciato la politica, ritorna per ricandidarsi alle elezioni presidenziali, ma questa volta i portoghesi gli voltano le spalle. Il suo amore per la politica lo porta a ritagliarsi, un ruolo da opinionista. Nel 2011, ai microfoni di Euronews, denuncia i mostri del nostro tempo. È il dominio dell'economia, il dominio degli affari sulle nazioni. È una tragedia per qualsiasi paese, unione di paesi. Credo che l'Unione Europea stia attraversando la più grave crisi della sua storia. Siamo tutti consapevoli che se continuiamo su questa strada, l'Europa non avrà un futuro in questo mondo. Difensore della democrazia, fino alla fine, una delle sue ultime uscite pubbliche è quella all'esterno del Consiglio Comunale di Lisbona durante il minuto di silenzio, in solidarietà con le vittime dell'attentato contro Charlie Hebdo.